Per loro è finita! Prepararsi all'abordaggio! Non affrontatela! Ci servono le carte di Delaverandrish! Per loro è finita! 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 Bastardo! Achille e Liam sono già andati a nord! Hoop aveva ragione! Sapevo... Com'è? Distrarti! Grazie! Grazie! Grazie dell'aiuto Capitano Cook! Di niente Capitano Cormac! Direi che navigare con voi è sempre... Ehm... Interessante! Di niente Capitano Cormac! Ehm... Ma... Ehm... 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 La... Wow! Ehm Ehm... Come si può sopravvivere in queste acque, Jack? 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 Capitano Altino 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 Tu sei la mia moglie, tu sei la mia moglie. Chiassi! Fuoto! Ordine dei capitani! Chiassi! Tiene fuori tiro capitano! Guarda capitano, portai! Me lo ve le! Via delle rapide! Andiamo per colpirti! Altre navi nemiche! Quindi siamo walls! Alle blizze, mettiamo il vento! Siamo 5 per 6! Lasciate solo i trevi! Appainate le vele! Aprite quei trevi! Non fateci speronare, capitano! Echiamo l'aglio! Aprite le vele! Ci muoviamo! E' una volta l'aglio! Inizio!!! Aprite le vele! Con questo cambio è contro Melanchi! Cap! Signor Kenway! Della verandrì è morto. Ho le coordinate. So dove sono diretti gli assassini. Allora, sbrighiamoci. Achille e Liam avranno trovato il sito dei precursori. Il mondo è ancora in piedi. Se l'hanno trovato, la terra comunque non ha tremato ancora. Molto gentile da parte loro. Penso ci sia tempo. Signor Gist, state qui. Accompagno io, Shay. Signore, col dovuto rispetto, credete che sia saggio? Come gran maestro devo indagare sui precursori fino in fondo e schiacciare la confraternita di Achille. Se gli assassini provocano un terremoto, almeno non ci andrà di mezzo tanta gente. In ogni caso, non voglio che i tuoi vecchi colleghi distruggano un sito dei precursori. Certo che sarebbe bellissimo se non facesse così freddo. Ma attenzione. In alcuni punti è molto sottile. Achille ha portato proprio un bel equipaggio. Sa che non sopravviveranno tutti in queste condizioni. Che peccato. Ma siamo comunque di meno. Stiamo tranquilli. Evitiamo gli scontri non... ... ... Grazie a tutti 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 Fortuna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti